Prima voglio fare una premessa per farti guardare con i tuoi occhi perché allinearti alla tua missione dell'anima è la leva più profonda in assoluto per il tuo subconscio. Quella che vedi è la piramide che mostra i livelli logici del dottor Robert Diels, conferenziere di fama mondiale. Quello che vedi alla base della piramide sono i risultati che osservi nella tua vita reale di ogni giorno. Se desideri cambiare qualcosa nella tua realtà fisica, come diceva Einstein, devi agire a un livello più profondo. E il livello più profondo prossimo al livello più superficiale, che è l'ambiente, sono i comportamenti. Quindi se vuoi modificare i risultati esterni, la prima cosa che puoi fare è cambiare i tuoi comportamenti. La cosa interessante è che man mano che sali sui livelli della piramide, gli effetti del tuo lavoro su un certo livello di strato del subconscio, questi cambiamenti si riversano a cascata su tutti i livelli sottostanti. Quindi ad esempio, se vuoi cambiare i comportamenti, la cosa più saggia da fare sarebbe quella di cambiare le tue capacità. Quindi ad esempio, studi un nuovo modo di fare qualcosa, come stai facendo in questo momento. E sulla base di questa tua nuova conoscenza, ti verrà spontaneo cambiare i tuoi comportamenti e di conseguenza i risultati cambieranno a loro volta. Se vuoi approfondire questo argomento, devi leggere la mappa di una pagina Business dall'Anima alla realtà. Scrivi mappa e te lo mando con un messaggio in privato.